maestro sto facendo le riprese mi dica qualcosa di bello che quando vuoi sei bravo sei diventato bellissimo sarà contento il babbo grazie maestro maestro fai a Lorenzo scritto tu devi scrivere questa pioggia è posto lento chi è che bussa sto compento cosa fa che c'è posto lento chi è che bussa sto compento così non c'è ogni tanto ogni tanto il nostro è grande Adriano che si prepara per la prossima scena il Lorenzaccio qui c'è una fifa tremenda ma è normale prima di entrare in scena accessibili di balese ecco accessibili di balese guarda siamo in tre ciao bello ciao ciao puoi cercare con le macchie il re volta le spalle signor Lassa del Ponte Orlando e da me in due le porte mi stai riprendendo bello Davide che bella fronte pura che hai se tu ci credi viene poi bene capito? si che sorpresa ma è più bellezza erano di quelli che erano sono più bella e nulla tesola oh ciao ciao io sono Valeria sono 26 anni e faccio il zio è l'alba è l'alba ma scusa un attimo ma Mariana dov'è? non c'è mi ha la vita? ma si ecco la Mariana ecco la Mariana è lì Daniele che Daniele non ti ve per altro non vivo per la telecamera io tu sei il mio cuore io vivo per te sole vieni a me prima vi bevevo anche per un'altra cosa ma adesso non c'è la vita è così vuota così futile così così ti riprende breve c'è anche più noioso di una checchia che fa l'imitazione di Judy Garna una checchia che fa l'imitazione di Bad Davis comunque ma adesso la sto riprendendo la prendiamo mi venderai poi si la venderemo questo tra 15 e 20 anni ma adesso facciamo un video no prima la trovo quello poi ha messo tutto l'uno io mi consumo il cuo capito? per 45 per 45 dollari e tu ti compri i maglioncini e la resta non c'è capito ma tanto Lorenzo ma come fai la storia assurda ma tempo di andare laggiù? ma ha detto che lavoriamo un sacco maestro che loro lavorano molto di meno soprattutto di un anno quanto sono facile gli attori vero maestro sì 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 io per l'altra volta non ti ho sentito dire sono andato amanti eh sì 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 ma non è giù che lo avete mai dato ma non è giù che lo avete mai dato ma non è giù che lo avete mai dato ma non ci sono stati 10 anni sono stati ma diamo la testimonianza filmata di Udaiuli che è davvero stata passata la sfida con te